Energicamente a scuola di energie rinnovabili, premiazione del più grande progetto didattico dell'Italia centrale che unisce energia, ambiente e scuola, promosso da Estra. Sentiamo. Intanto è una bellissima iniziativa che coinvolge tante scuole, tanti insegnanti e continuiamo a insistere su questo messaggio dell'uso ragionevole e consapevole dell'energia. L'energia, come si sa, è fondamentale per la vita dell'uomo però va utilizzata con grande razionalità e insistere sulle nuove generazioni che crescano in modo consapevole dell'uso consapevole dell'energia per noi è una cosa molto positiva che dà risultati importanti. Coinvolgere i ragazzi a quest'età è una delle leve più importanti per trascinare anche le loro famiglie dentro questa bella avventura, questo bel cammino. Teatro ed energia, che binomio è? È un binomio indissolubile direi innanzitutto perché senza energia il teatro non può esistere, non si è mai visto un teatro moscio o quantomeno non un buon teatro e tra l'altro unire energia, teatro e bambini fa sì che ci sia proprio una detonazione, un'esplosione di energia. Questo ormai è penso addirittura il settimo anno di questa edizione per cui abbiamo incontrato nel corso di tutti questi anni veramente tantissimi ragazzi e ogni anno ci sorprendono nel loro entusiasmo, nell'accogliere questo progetto che serve a coniugare le informazioni, tutto ciò che i bambini apprendono attraverso i percorsi didattici, attraverso il linguaggio del teatro. Quest'anno nuovamente con le scuole e le classi partecipanti abbiamo creato questo flash mob che andrà in scena domani dalle 4 e mezza per le vie del centro in città dove i ragazzi si esibiranno in una performance, in un'incursione urbana e mostreranno le loro idee, come loro hanno tradotto le informazioni riguardo alle energie rinnovabili, la cura per l'ambiente, energie pulite eccetera, con il teatro, con il linguaggio del teatro.